Cari amici che ci seguite ormai da svaliati anni, nel 2017 la nostra associazione, la nostra testata SestoTV compie nove anni. Non sono pochi. In questi nove anni abbiamo realizzato moltissime cose, circa 1300 video, centinaia di ore di trasmissione in diretta, i nostri format che continuamente invadiamo e soprattutto dal marzo del 2015 abbiamo inaugurato i nostri studi qui alla Casa del Popolo di Colonnata da cui vi trasmettiamo e questo per noi è un grosso traguardo. Nel 2017 però vogliamo concentrare una parte degli sforzi che faremo per ripristinare quelli che erano gli scopi iniziali di SestoTV, vale a dire il recupero delle nostre memorie. Noi eravamo partiti per cercare di recuperare vecchi filmati, filmati cosiddetti familiari, quelli che ognuno di noi ha nelle nostre casse probabilmente nascosti in vecchie pellicole di 8 mm e super 8. Abbiamo fatto molte iniziative i primi anni, facevamo una rassegna annuale alla Casa del Guidi prima e poi l'apoteosi finale nel novembre del 2014 al Cinema Grotta di Sesto, gentilmente concessoci e con la collaborazione di Marco Conti e della famiglia Conti, per fare questa serata che ebbe un notevole successo. Noi vogliamo in quest'anno ripristinare questa nostra attività, ma non da soli, ma con il contributo di coloro che detengono questi vecchi filmati, vale a dire i cittadini, i cittadini di Sesto e non soltanto di Sesto, anche se ci chiamiamo Sesto TV, perché riteniamo che sia importante recuperare questi spezzoni delle storie con l'ess minuscola di tutti i giorni della nostra comunità. È un modo anche per farlo conoscere ai giovani che niente sanno di come si viveva 20, 30, 40, 50 anni fa. Io credo sia importante. Allora per fare questo noi chiediamo l'appoggio sia degli enti, delle altre associazioni, dell'amministrazione comunale. Non ci dimentichiamo che per esempio negli Stati Uniti in ogni comunità esiste un ufficio per la raccolta di questi filmati, che vengono poi restituiti, convertiti in digitale, restituiti alle persone e mantenuti in un archivio che si arricchisce tutti di giorno in giorno. Quindi noi chiediamo questo, chiediamo che i cittadini che hanno questa sensibilità di recuperare queste nostre spezzoni di memoria individuale si facciano avanti all'indirizzo di posta sestotv.gmail.com oppure venendoci a trovare, oppure sui nostri social media di Facebook e da altre parti, Sesto TV, per conferire con noi e portarci questi loro contributi che noi provvederemo in qualche modo a, se sono già su CD o DVD, bene, l'abbiamo già registrati e li possiamo incamerare e commentare con loro, altrimenti cercheremo anche di convertirli dalla pellicola al digitale. Inoltre su questo aspetto ripristineremo quest'anno la trasmissione che si chiama Sesto Fiorentino com'era, proprio perché vogliamo che i protagonisti di storie di anni passati vengano nei nostri studi a raccontarceli attraverso foto, attraverso immagini e attraverso video. Beh, non ho altro da dire se non quello di seguirci, di supportarci, perché ne abbiamo bisogno da questo punto di vista, perché Sesto TV non è soltanto un patrimonio di pochi che ci lavorano con il proprio entusiasmo, ma è, pensiamo, un patrimonio di tutti i cittadini che abbiamo contribuito in quest'anno a far diventare di estremo interesse, non soltanto nell'ambito locale, ma in un ambito anche più vasto, regionale e perché non nazionale. Abbiamo queste belleità e le vogliamo portare avanti. Grazie.